Papà, hai preso il cestolino per zio? Ma che hai aperto il cestolino? Beh, era quello per zio Nicola, lo dovevamo spedire. Ma so, mamma, so... No, ma avevamo detto che gli mandavamo... Che stai mangiando, i quadrolini? Sì, ma sto mangiando quelli al finocchietto, quelli al negra mara, li prendo dopo. Ma hai aperto tutto, papà, ma il sugo? Eh, vabbè, ma io dovevo rendere... Gli oli rebelle di Cerignola? Pure le orebelle di Cerignola per vedere se sono... Tutto, hai aperto tutto. Ma era per zio Nicola, lo dovevamo spedire, c'è sto lino. Ma oh, non è che... Vogliamo finire? Io ho il diritto, si chiama cesto lino, non è che si chiama cesto zio Nicola o cesto Rosanna. Capito? Ozzo! Sono tutti uguali i figli.